Pagno di folla per la trifola e i prodotti del bosco. Il rinascimentale centro storico di Città di Castello si è trasformato in un serotto di gusto. Con il taglio del nastro ha preso il via alla presenza del prefetto di Perugia Armando Gradone ed una nutrita rappresentanza istituzionale con parlamentari, autorità civili e militari la 42esima edizione della mostra a mercato nazionale del tartufo bianco. È la manifestazione dove una comunità esprime se stessa. Dico questo perché in realtà il tartufo è un prodotto che è tipico di un territorio, non è che il tartufo si può trovare ovunque e quindi meglio di altri è un prodotto che rappresenta una comunità, rappresenta un territorio. Voglio ricordare che la ricerca del tartufo è diventato bene addirittura un patrimonio UNESCO, quindi per dire che è un valore aggiunto che è riconosciuto, a cui il comune ha sempre dato un sostegno, continuerà sempre a dare un sostegno. A Città di Castello, nella città del tartufo, sulla scia del profumo della trifola, regina delle tavole di tutto il mondo, l'identità, le tradizioni, la cultura e l'economia dell'Alto Tevere, nella manifestazione organizzata dall'associazione Mostra del tartufo, dal comune Tifernate con il sostegno dei Gall. Sono delle occasioni in cui il palcoscenico viene confistato da quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Il tartufo è una di queste, è un bene straordinario che viene prodotto nella nostra terra. Vorrei ricordare che il tartufo è stato al centro anche di un'attenzione da parte dell'UNESCO, quindi proprio per sottolineare che quando parliamo di queste eccellenze del territorio si parla non solo di uno straordinario prodotto della terra, ma si parla anche di identità, di cultura, di tradizioni. Quindi sono degli ambasciatori di un territorio, delle sue caratteristiche identitarie. La regione è fermamente intenzionata ad agire per potenziare e valorizzare questi prodotti, queste eccellenze. Noi abbiamo lanciato nei mesi scorsi un'importante iniziativa che è quella di stimolare e favorire la nascita da una vera e propria filiera del tartufo in Umbria, proprio per valorizzare lo straordinario patrimonio che abbiamo, sia in termini di produzione, sia in termini anche di aziende che operano sul fronte della trasformazione e della commercializzazione di questo prodotto. E vogliamo sempre più fare dell'Umbria una vera e propria capitale del tartufo a livello nazionale e internazionale. E nel solco di una tradizione consolidata che ne fa uno degli appuntamenti più importanti tra gli eventi italiani del settore, la mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco è anche l'occasione per entrare in contatto con la cultura del luogo, con i suoi piatti tradizionali, con la tradizione rurale e produttiva in un contesto di grande valore paesaggistico. Questa meravigliosa mostra la vivo come una delle realtà più belle che io avessi potuto vivere da Umbra. Mi fa veramente un immenso piacere l'essere stata invitata e soprattutto aver condiviso con i miei commensali questo momento di vita.